Anche un semplice blackout è stato sufficiente ad evidenziare le notevoli difficoltà che ogni giorno si riscontrano al pronto soccorso del veneziale di Isernia. Il minimo intoppo rende ingestibili anche le situazioni più semplici, soprattutto a causa di un organico carente. Ha denunciato ancora una volta Lucio Pastore, referente del comitato del personale del presidio di emergenza, ormai in stato d'agitazione perenne. Mancano posti letto in quanto sono stati ridotti, non sono state fatte alternative territoriali, per cui i pronto soccorsi si intasano, creando una problematica enorme di gestione di questi pazienti. Abbiamo avuto questi episodi con i blackout, pazienti che non riuscivamo a seguire, che ci sono scomparsi nel pronto soccorso e sono stati riportati agli elettricisti, altri che scavalcano le sbarre all'età di 91 anni perché hanno necessità e noi non li possiamo fare, altri che si denudano nel reparto pazienti di fisica, perché due infermieri con 20-30 pazienti da seguire diventa quasi impossibile la gestione. Neanche a Venafro, dove l'afflusso è decisamente contenuto, le cose vanno meglio. Non c'è iperafflusso, però c'è una carenza di organico tale per cui non si riescono a coprire a livello di minimo sindacale tutti quelli che sono i turni di servizio. E quindi comincia ad essere una difficoltà pure lì la gestione dell'ordinario. Per Lucio Pastore sarà dura uscire dalla palude in cui è finita la sanità pubblica molisana, senza un ridimensionamento di quella privata a suo avviso è impensabile ottenere miglioramenti. Essenzialmente va limitato il flusso verso il privato perché sta assorbendo una quantità di energie tali che giustifica la non funzionalità del pubblico e forse, non so se è politicamente voluto, il non dare risposte alla struttura pubblica e per favorire una privatizzazione di fatto della sanità e trasformare il diritto della salute in mercia.